rottura dell'acquedotto pesaro resta senza acqua balzo in avanti dei contagi 162 in un solo giorno un po alberghi e un po condomini a pesaro arrivano i condotelle ex consorzio agrario lavori bloccati almeno fino a novembre buonasera benvenuti al nostro telegiornale il telegiornale ufficiale della città di pesaro visibile in tutta la regione marche chiaramente di rossini tv oggi è mercoledì 28 luglio questa sera partiamo parlando di una grossa disfunzione che è avvenuta proprio alla città di pesaro nella giornata di oggi oggi pomeriggio infatti buona parte della città di pesaro è rimasta senza acqua e ancora lo è poco dopo le 13 di oggi marche molti servizi ha infatti pubblicamente comunicato la rottura di una delle condotte principali che serve l'acquedotto cittadino anticipando l'interruzione dell'erogazione dell'acqua a partire dalle 15 in base alle informazioni che abbiamo raccolto in alcune zone della città l'acqua è cominciata a mancare già intorno alle 14 mentre in altre zone non si è registrata alcuna interruzione marche molti servizi si è subito adoperata per la riparazione della condotta con il guasto avvenuto nell'area di cucurano riparazione che dovrebbe concludersi attorno alle 21 e l'erogazione dell'acqua dovrebbe tornare a regime dopo le 23 durante la giornata marche molti servizi ha tra l'altro predisposto tre autobotti in assistenza alla cittadinanza e sono state predisposte postazioni dalla protezione civile per la distribuzione di acqua potabile in varie zone della città abbiamo quindi raggiunto telefonicamente l'amministratore delegato di marche molti servizi Mauro Tiviroli che in questo intervento ci aggiorna su quanto accaduto chiedo a tutti i cittadini un po di pazienza perché purtroppo abbiamo avuto una rottura ieri a Santa Veneranda siamo riusciti a ripararla in tempo debito e in tempo utile per non creare nessun tipo di disagio né di servizio tant'è che non abbiamo comunicato niente perché nessuno se ne è accorto però quando c'è una rottura cosa succede? Succede che siccome questo è l'acquedotto principale che rifornisce l'acquedotto di Pesaro e non solo e quindi il serbatoio di San Gaetano ovviamente quando c'è una rottura c'è il consumo e c'è meno flusso e quindi è chiaro che siamo trovati oggi con il serbatoio a un livello più basso e purtroppo questa rottura consecutiva da un giorno all'altro ha creato il disagio che ovviamente capisco e per quanto utile posso chiedere scusa ma non è certamente colpa di nessuno purtroppo gli acquedotti si rompono è un acquedotto che ha la sua vetustà e chiaramente nel tempo bisogna programmare anche il suo rifacimento e quindi oggi stiamo comunque lavorando e credo che nel giro di qualche ora verso le 8.30 l'intervento di riparazione sarà completato e poi serviranno 2-3 ore per riempimento della condotta che comunque è una condotta importante di un 700 di diametro e quindi lunga 27 chilometri quindi un po' di tempo ci vuole perché non si può riempire troppo in fretta persino a parte il colpo d'ariete e quindi si torna anche a rompere e quindi contiamo verso la tarda notte verso le 23-24 io spero che contiamo di cominciare a far defluire l'acqua nella rete distributiva di Pesaro insomma ecco in alcune piccole zone qualcosa c'è perché comunque inseriamo l'acqua del posto di Borgeria che comunque sono pochi e sono a una portata limitata e quindi però stiamo mettendo in rete qui nelle zone un po' più basse qualche quantità di acqua sta arrivando insomma quindi ci stiamo adoprando con autobotti anche con la distribuzione anche con l'ausilio e il rapporto col comune la protezione civile la distribuzione di bottiglie abbiamo tre autocisterne che hanno i beccucci adeguati e quindi stiamo facendo distribuzione cerchiamo di fare il possibile però è ovvio che il disagio c'è e come dicevo chiedo per quanto possibile un po' di pazienza e di tolleranza ai cittadini perché chiaramente ci rendiamo conto del disagio che c'è però purtroppo c'è più di quello che stiamo facendo non riusciamo a fare ecco. Grazie. Decisamente argomento perché oggi c'è stato un improvviso balzo in avanti dei contagi da covid-19 nelle marche il report giornaliero del servizio sanitario regionale registra infatti 162 casi nuovi il tutto su una cifra di 3.019 tamponi effettuati in pratica oggi un tampone su 10 risultato positivo al covid-19 numeri interlocutori dopo una settimana trascorsa su un andamento altalenante ieri i casi positivi nelle marche erano stati 67 qualche giorno fa si era superata quota 100 quota che non veniva scavalcata dal mese di maggio quella di Pesaro Urbino è la provincia in cui si è registrato il più alto numero di contagi con 41 casi ma anche qui il dato resta di difficile decifrazione visto che ieri se ne erano contati appena 4 nello stesso territorio continua dunque ad alzarsi il tasso di incidenza di contagio accumulativo ogni 100.000 abitanti tasso che ora si attesta quota 45,3 ed ora passiamo alla cronaca qualche giorno fa a Fanno un 62enne è stato aggredito e rapinato in pieno centro storico oggi i carabinieri hanno arrestato il responsabile una serata in compagnia di amici trascorsa Fanno è finita per trasformarsi in un incubo e quanto accaduto ad un 62enne di Chiaravalle che giovedì scorso si è recato in piazza Andrea Costa per trascorrere una serata in allegria fra amici ma ha finito per essere aggredito e rapinato in pieno centro storico a meno di una settimana di distanza però i carabinieri di Fanno hanno individuato e arrestato il responsabile si tratta di un 27enne nigeriano senza fissa dimora fermato con l'accusa di rapina gravata i fatti dicono che era da poco trascorsa la mezzanotte quando il 62enne in questione intento a camminare a piedi per il centro veniva avvicinato dal giovane di colore per la richiesta di una sigaretta il tutto all'altezza del supermercato conad di via froncini ricevuta la sigaretta offerta e l'ingeriano ha cominciato a seguire la vittima prescelta fino a un cantiere poco illuminato reclamando il portafogli strappandogli la maglietta e colpendolo con un corpo contundente ottenuto il portafogli e scaraventato a terra il 62enne il ladro si è dileguato rimediando appena 40 euro e un bancomat il malcapitato è stato così medicato dai sanitari del 118 intervenuti sul posto alla richiesta di soccorso così come sono intervenuti i carabinieri allertati da un testimone nel luogo dell'aggressione è stata ritrovata una bottiglia rotta usata come oggetto contundente d'aggressione e l'aiuto dei sistemi di videosorveglianza comunali e privati presenti nella zona hanno permesso di ricostruire l'identikit dell'aggressore e anche il suo percorso visto che su viale colombo è stato pure ritrovato il portafogli rubato e svuotato del contante ricostruito il profilo del responsabile le ricerche dei carabinieri si sono concentrate nei luoghi maggiormente frequentati da cittadini extracomunitari e il sospettato è stato individuato sabato mattina in via montevecchio da una pattuglia della stazione di fano il giovane nigeriano è fuggito ancora prima di essere avvicinato ma poi è stato intercettato nell'inseguimento lungo via dell'arco d'augusto gli elementi raccolti hanno portato ad accertare le responsabilità del nigeriano sul quale gravavano già due ordini di espulsione mai ottemperati a pesaro comincia a prendere piede la conversione di alberghi in cond hotel vale a dire hotel che modificano una consistente fetta dei loro spazi in appartamenti da vendere o da affittare vediamo quindi tutto quello che riguarda appunto questa novità in questo prossimo servizio di daniele sacchi costruire sul costruito e rivitalizzare il patrimonio immobiliare esistente modificando nella destinazione d'uso è questa la filosofia alla base dei cond hotel che stanno cominciando a prendere piede a pesaro si tratta di alberghi che decidono di non essere più hotel al 100 per cento ma di destinare una consistente percentuale del loro edificio alla realizzazione di appartamenti di civile abitazione a pesaro cna costruzioni assieme alla rete di professionisti specializzati eliob group accompagna gli alberghi in questa pratica che ha visto l'hotel riva azzurra di viale trieste di zona levante avviare questa tendenza e ora si appresta a diventare cond hotel anche l'hotel caravan all'angolo fra viale trento e viale monfalcone il condotere è partito da una legge nazionale del 2016 la quale dava la possibilità agli alberghi di costruire degli appartamenti all'interno della struttura non snaturando il concetto d'albergo la regione marche devo dire che con tempestività nel 2019 ha adottato questa legge con una delibera regionale quindi subito dopo la deliberazione della legge regionale noi come cna che siamo molti attenti al recupero e la riqualificazione del costruito assieme allo studio tasini lo studio eliob e il geometra tasini abbiamo iniziato a studiare la normativa sul territorio pesarese poi non ultimo il primo di giugno del 2021 il comune di pesaro ha fatto una delibera dove ha attuato i ricondi hotel quindi siamo già operativi su questa nuova norma urbanistica come dicevi tu una norma urbanistica importante perché si costruisce sul costruito prima di tutto non si consuma territorio ed è una cosa importante si riqualificano le vecchie strutture si adeguano in base anche alle normative sismiche ma soprattutto è un incentivo economico sia per il proprietario ma anche un'opportunità di lavoro per il nostro sistema di imprese perché le nostre imprese del settore delle edilizie che io rappresento dell'impiantistica sono interessate a questo tipo di mercato è un mercato dove la loro organizzazione di lavoro e il loro sistema produttivo si adatta molto a questo recupero strutturale degli edifici ci sono poi alberghi dismessi come l'hotel sporting che scelgono altre strade come la conversione totale in appartamenti ad uso turistico quella del condotel è invece una strada che allinea pesaro ad una tendenza già diffusa in tante città metropolitane la percentuale massima di trasformazione dell'attuale struttura ricettiva quindi albergo è del 40 per cento in destinazione residenziale proprio per permettere di riqualificare comunque anche tramite la potenziale vendita di questi nuovi appartamenti residenziali veri e propri e l'intera struttura proprio nel concetto del costruire sul costruito con una flessibilizzazione della destinazione ricettiva che accoglie anche quella residenziale e quindi la tradizionale ricettività si unisce alla residenza creando una gestione integrata il vero e proprio condotel questa flessibilità funzionale della destinazione ricettiva è stata introdotta dalla delibera del comune di peso del primo giugno proprio per raccogliere questo tipo di concetto di valorizzazione delle attuali strutture ricettive esistenti Dopo lo stop per covid del 2020 ieri è tornata la cerimonia della consegna dei sigilli d'Ateneo dell'università di Urbino nell'occasione il rettore Giorgio Calcagnini ha conferito il sigillo a due importanti figure imprenditoriali del territorio pesarese come il fondatore dell'ABS Giancarlo Selci e il presidente della Snell di Fano Simone Rupoli Terzo appuntamento per la rassegna musicale Note Oliveriane che domani giovedì 29 luglio alle ore 21 nel giardino Riz Ortolani ospiterà Domenico Modugno il padre dei cantautori italiani un viaggio nella vita e nelle opere di uno degli autori interpreti più importanti in Europa e nel mondo a raccontarci vita e opere di Domenico Modugno attraverso musica e parole sarà Enzo Vecchiarelli accompagnato sul palco dall'attore teatrale Claudio Tombini e dal violinista Massimiliano Poderi Gabice Mare sempre più a misura di bambini dopo l'area verde attrezzata di Ponte Tavollo riservata al tema di giochi per lo sviluppo dell'attività psicomotoria l'amministrazione comunale ha inaugurato oggi un altro spazio ludico con un restyling dell'area verde in piazza Giardini Unità d'Italia mediante l'installazione di giochi raffiguranti la natura, i fiori e gli animali Ed ora il consueto spazio dedicato alle vostre segnalazioni ve lo ricordiamo sempre qui in sovraimpressione il numero di cellulare da salvare sul vostro telefono e attraverso il quale comunicare i vostri video o le vostre segnalazioni appunto le immagini che vi mostriamo questa sera ci sono state inviate da un telespettatore e documentano come sul marciapiede di Viale Trieste nella zona compresa tra Viale Fiume e Viale Rovereto ci siano aree da mesi poco pulite e incustodite zone mal curate dove è possibile notare ceppi d'erba cresciuti sulla sabbia mattonelle sporche e tombini intoppati che in caso di pioggia chiaramente facilitano la creazione di pozzanghere e chiaramente daremo contezza di quanto da voi denunciato a chi di dovere cercando sempre di risolvere le cose che non vanno nel nostro territorio adesso cambiamo completamente argomento sorrido perché parliamo di una cosa molto divertente si chiama Sapore di Sale Grosso il nuovo divertente spettacolo del San Costanzo Show che venerdì 30 luglio garantirà risate assicurate all'arena BCC di Fano ecco come ce lo presentano i protagonisti intervistati da Antonio Astuti quest'anno 30 luglio presentiamo un nuovo spettacolo una nuova produzione che si chiama Sapore di Sale Grosso Sapore di Sale Grosso lei lo dice meglio allora faccio dire io lo posso anche cantare Sapore di Sale Grosso quindi sul palco tutta la compagnia lei è la prima donna nonché l'unica rimani qua che facciamo tipo coretto esatto sei troppo vicino volevo dire che la compagnia consta di circa 1500 elementi che oggi ahimeno sono potuti venire siamo noi rappresentanza di tutti i 1500 siamo sette vorremmo essere una produzione bollywoodiana ma siamo solo sette allora regia di Paola Galassi e di me anche perché permettetemi di dirlo qualcuno l'avete perso per strada sì eravamo all'inizio eh vabbè allora vogliamo dire anche chi c'è non lo diciamo non lo diciamo potrei dirlo ma non lo dico ma c'è qualcun altro che ci siamo persi per strada cioè lui era un attore ha cambiato mestiere però vogliamo fargli fare l'ultimo saluto prego Davide vieni a salutare il pubblico il tuo pubblico ecco è diventato un apicoltore bravissimo quante arnie c'hai? anche perché guarda che la mascherina mi sembra un po' diversa da quelle che si usano di soli esatto perché le mie sono api differenti eh come la banca comunque 3 settembre sarete in scena chiuderete la rassegna 30 luglio e 5 settembre volevo dire che l'abbiamo cacciato la San Costanzo Show perché sbagliava sempre le date infatti abbiamo detto oggi sì domani basta ha detto basta chiudiamo perché sbagliava sempre non si presentava mai nello spettacolo era il 7 l'8 arrivava il 10 il 20 però per la rassegna stampa è ottimo grazie davvero ragazzi grazie a voi ciao a tutti sapore di sale grosso 30 luglio e 5 settembre continuiamo con i nostri servizi perché continua la situazione di stallo nell'area portuale di Pesaro dell'ex consorzio agrario dove dovrebbero sorgere due torri con 80 appartamenti e invece i cantieri sono fermi da febbraio per un'indagine della procura appunto della Repubblica che è destinata però a trascinarsi almeno fino a ottobre a distanza di qualche mese siamo tornati sulla banchina del porto di Pesaro dove alle nostre spalle c'è il cantiere riguardante l'ex consorzio agrario ovvero quel rudere faticente che fu abbattuto lo scorso mese di novembre ora arrivati alle porte di agosto si sarebbe già dovuto intravedere lo scheletro edilizio di una nuova imponente struttura residenziale due torri da circa 84 appartamenti destinati a cambiare la fisionomia del porto e del tratto terminale di Viale Trieste e invece dalla fine di febbraio i lavori sono fermi o meglio sono tornati gli operai per realizzare alcune opere che agevoli l'ingresso dei mezzi pesanti in attesa che si sblocchi questo stop ai lavori lo stop ai lavori arrivò per un'indagine della procura della repubblica alla quale si rivolse anche la capitaneria di porto per un approfondimento sulla praticabilità dei permessi di costruzione ad uso residenziale nell'area portuale rilasciati dal comune di Pesaro nel 2018 da lì è scattato un ingarbugliato incidente probatorio sull'interpretazione del piano regolatore e sulla possibilità di realizzare in quest'area strutture edilizie diverse da quelle ad uso strettamente connesso alle attività del porto e così a marzo furono anche indagati tre tecnici nei giorni scorsi si è svolta un'udienza davanti al giudice per le indagini preliminari alla presenza di tutte le parti coinvolte compreso il comune di Pesaro che nella faccenda ha in ballo oltre 2 milioni di euro di oneri urbanistici già versati e soprattutto il fondo di investimento israeliano che detiene la quota maggioritaria delle complesso edilizio in via di realizzazione una situazione davvero controversa che ha bloccato la realizzazione di più di 80 appartamenti per buona parte dei quali c'era già un impegno all'acquisto e che ha fermato anche un cantiere con una cinquantina di persone coinvolte il giudice ha rinviato l'incidente probatorio al 26 ottobre per avere in mano le relazioni complete dei periti esperti di urbanistica nominati dal tribunale dovrebbe essere lo snodo decisivo per avere un po' di chiarezza su una situazione altrimenti estremamente nebulosa perché non si sa ancora se si potranno costruire questi appartamenti ma di certo si sa che i lavori non potranno riprendere almeno fino al mese di novembre I luoghi della cultura e delle tradizioni ebraiche presenti in 25 comuni delle Marche ora si mettono in rete il Consiglio regionale ha infatti approvato la proposta di legge di Giacomo Rossi per la realizzazione di un itinerario ebraico marchigiano proposta che ha ricevuto l'assenso anche dei consiglieri regionali di minoranza come Andrea Biancani Una proposta di legge che oggi è diventata legge grazie al contributo di tutti i consiglieri regionali una legge che è stata votata quindi all'unanimità e che istituisce questo itinerario ebraico marchigiano che vuol mettere insieme in rete tutti i luoghi di interesse storico architettonico dove vi è stata la presenza delle comunità ebraiche nelle Marche quindi un itinerario che valorizza e promuove questi luoghi 25 comuni dislocati in tutte le Marche una proposta quindi volta alla promozione e al turismo ma anche alla memoria delle comunità ebraiche che nella storia appunto sono stati presenti in questi 25 comuni In prima commissione abbiamo condiviso questa proposta anche perché riteniamo che su questi temi non ci possiamo dividere sono tematiche che devono, come dire, hanno coinvolto l'intero consiglio regionale io mi auguro che questa possa essere una legge soprattutto rivolta alle scuole perché noi riteniamo che la memoria di quello che è stata la cultura ebraica nel territorio marchigiano vada in qualche modo portata avanti e vada continuamente, come dire, alimentata la legge poi individua tutta una serie di valorizzazioni dal punto di vista storico-culturale di quelli che sono i beni presenti a livello regionale mi riferisco ad esempio alle sinagoge, ai cimiteri ebraici quelle che sono le abitazioni che hanno delle caratteristiche anche architettoniche tipiche appunto della cultura ebraica e soprattutto anche tutta una serie di iniziative appunto nate che dovranno contribuire a promuovere la cultura ebraica a livello regionale e siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale chiaramente vi consigliamo di seguire l'andamento del servizio idrico a Pesaro anche attraverso i nostri call ma come abbiamo detto in apertura il tutto, l'acqua, quindi dovrebbe tornare nelle vostre case intorno tra le 11 e mezzanotte di oggi quindi insomma non allarmatevi, non preoccupatevi che l'acqua ritornerà a breve appunto nelle vostre, nelle nostre case andiamo con la programmazione di questa sera questa sera è una serata dedicata completamente al comune di Montellabate perché alle 21.15 vi faremo vedere un reportage di quella che è stata la mostra fotografica in occasione della Sagra delle Pesche che quest'anno non è stata fatta insomma a causa del Covid però appunto per soccombere a questa mancanza l'amministrazione ha voluto creare un bellissimo reportage fotografico una mostra fotografica che noi questa sera vi mostriamo a seguire alle 21.30 circa la Sagra delle Pesche ecco tra le iniziative di questo evento così importante per il comune di Montellabate vi mostriamo invece la gara regionale la sesta notturna tra i vicoli di Montellabate abbiamo detto davvero tutto grazie per averci seguito come sempre l'appuntamento torna domani alle 7.20 con Buongiorno Rossini grazie a tutti grazie a tutti